Il nuovo tracciato della linea ferroviaria Roma-Pescara attraverserà la falda acquifera del Monte Morrone. Il nuovo progetto di RFI mette a rischio le sorgenti del giardino, fanno sapere dall'Associazione Italia Nostra. Il timore è che nulla si sia imparato dal traforo del Gran Sasso, che ha prodotto la seccagione delle sorgenti, la diminuzione della portata dei fiumi e la compromissione della biodiversità. La galleria prevista, che è di circa 11 km, sono due gallerie, interessano trasversalmente tutto il flusso dell'acqua, che è un flusso imponente che, tra le varie cose, dà vita e paesaggio al Parco Nazionale per tutta l'area Peligna e interessa le sorgenti del giardino. Le sorgenti del giardino sono le più copiose del Monte Morrone, danno acqua oligominerale naturale, di altissimo pregio, di altissima qualità, e riforniscono l'acquedotto che serve tutti i comuni della Valle del Pescara, compreso Chieti e compreso il capoluogo Pescara, e siccome gli acquedotti sono interconnessi, interessa anche Francavilla fino a Bucchianico e interessa a nord Montesilvano e altri paesi importanti, centri fino ad Atri. Stiamo quindi parlando del rischio che queste sorgenti potrebbero essere seccate. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la fase del dibattito pubblico sul progetto. Le perplessità di Italia Nostra non riguardano solo l'impatto ambientale, ma anche i benefici economici e sociali che l'opera dovrebbe garantire. Il più vistoso è che verranno tagliate fuori dall'accesso alla ferrovia, centri importanti da Tocco da Casauri, Bussito di Vino e soprattutto Popoli, che era il crocevia dell'Abruzzo interno, e invece queste gallerie la taglierebbero. Ma anche nelle parti urbane, quindi da Pescara andare fino a Manoppello e poi a Scafa, eccetera. Questa è un'opera che dovrebbe costituire un momento di riqualificazione di tessuti che attualmente sono già danneggiati dall'attraversamento, mentre sentiamo parlare di demolizione di case, di raddoppio, altre barriere tra abitati, eccetera. Ora, quello che stupisce è veramente questa indifferenza verso il contesto. E guardate che le economie di contesto, il miglioramento degli ambienti circostanti sono dei benefici che in un piano nazionale di resilienza si dovrebbero proprio conteggiare. Cioè, non è importantissimo raggiungere con minor tempo Roma da Pescara e viceversa, ma è altrettanto importante che questa sia un'infrastruttura che serva ai territori.